Ha fatto appunto a Torino quindi sarà molto complicata. La seconda dove, visto che è terminata la preparazione, dove potrebbe trovare luogo tra la posizione Michele appunto all'interno della Cofaro per, se dovete vincere appunto con un falso nuove o con un funambolo, un esterno, grazie. Ciao. No, scusami, non ho capito il giocatore, il falso nuove, non hai capito nemmeno te? No, perché ho capito Muraro che chiaramente non poteva essere, vediamo a pensare, il falso nuove del... Va beh, risponde alla prima domanda. Ma allora, mi dispiace, era molto bassa la telefonata. Io non c'entro a te. Eh? Magari sono un composore anch'io. Mi sono toterata in causa, capisci? L'inter ha il dovere.